Una sfida a colpi di bellezza in termini di decoro urbano tra balconi fioriti, spazi pubblici abbelliti con decorazioni floreali e vetrine impreziosite da piante e fiori. Valorizzare, colorare e rendere bella Lanciano sono alcuni degli obiettivi della prima edizione di Rifiorisce Lanciano, città dell'accoglienza. Un concorso bandito dal comune che intende premiare gli interventi che contribuiranno a diffondere l'immagine di una comunità accogliente, aperta e colorata. In Paglio ci sono due bici a pedalata assistita per i partecipanti, divisi in due categorie, private cittadini e commercianti. Il concorso dura due mesi, dal 20 luglio al 22 settembre, giornata mondiale senza auto. L'assessore a cultura e turismo Marus Camiscia. Allora, questa iniziativa ha l'obiettivo di rendere la nostra città più bella, più colorata, più fiorita, dopo un periodo anche di chiusura, di tristezza, che chiaramente ha coinvolto l'Italia e tutto il mondo. Ecco, la nostra città vuole dare una risposta e invitare i cittadini, anche attraverso un premio che abbiamo messo in palio, quindi una bicicletta pedalata assistita per ogni categoria di partecipanti, e invitare appunto i cittadini, ma anche i commercianti, ad avere più cura degli spazi di cui hanno la disponibilità. Per cui il concorso è rivolto a cittadini, a commercianti, a associazioni anche, che vorranno addobbare i propri balconi davanzali, gli angoli delle vetrine delle proprie attività, con delle composizioni floreali, anzi fresche, non sicuramente recise né secche, e per la durata di due mesi, quindi questo concorso durerà due mesi, quindi il tempo necessario per fare poi la valutazione attraverso delle fotografie. Al progetto ha contribuito anche il movimento La Venum, noto in città per la promozione delle due ruote e che farà parte della giuria. L'auspicio è che questa estate diventi anche e soprattutto il momento giusto per urgenti e improcrastinabili interventi sulla sosta e sulla viabilità urbana, ha detto in conferenza stampa Raffaele Angelucci, e che la proposta per una rete ciclabile emergenziale denominata Riparto in Bici e redatta dalla locale sezione della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta FIAB possa fare passi avanti. Ora, ha detto Angelucci, è ferma al palo, con l'amministrazione comunale che ha mostrato si interesse, ma non tradotto ancora in azioni concrete. Abbiamo il desiderio di completare questo percorso attraverso anche l'istituzione di un voucher culturale, quindi di un voucher che si è calcolato sull'acquisto di bici elettriche a pedalata assistita, da spendere in beni culturali. Quindi questa sarà un'ulteriore iniziativa che l'amministrazione porterà avanti nelle prossime settimane, e che ha l'obiettivo di sostenere quei settori che sono stati particolarmente penalizzati durante il lockdown. Quindi questo buono commerciale potrà essere speso all'interno di attività che vendono musica, libri, agenzie di viaggi, potrà essere speso per l'acquisto di abbonamenti al cinema, al teatro, per l'acquisto di materiale fotografico, artistico. Quindi questo è il nostro obiettivo, quello di incentivare questo tipo di spese, anche facendo una sorta di, scommettendo, anche su quei cittadini che vogliono spendere in maniera intelligente le proprie risorse.